E' molto bello, chissà che non torneranno. L'altro pezzetto è sulla cerimonia finale per il calendario Alatri in miniatura. La cerimonia conclusiva della manifestazione Alatri in miniatura. E' stata una lunga e incredibile cavalcata dal 17 novembre, presentazione del calendario stesso, a sabato, eccetera, eccetera. E qui iniziano i ringraziamenti, questo è un comunicato stampa ufficiale, io non ve lo leggo perché è troppo lungo e soprattutto è carico di grazie, grazie a questo, grazie a quell'altro, grazie a quell'altro ancora. Sono proprio uno che si dice più bravo e quell'altro dice ma no, tu sei più bravo di me. Io ho partecipato a questa cerimonia e c'era proprio una gran voglia di dire grazie l'uno con l'altro e ha avuto dire che insomma sono stati bravi. Comunque la cosa bella è che 35 associazioni si sono messe insieme, io però malignamente, malignamente ho pensato questi si sono messi insieme, 35, perché hanno avuto la possibilità di far vedere quello che sanno fare. O no? Tutti contenti, io so cantare, beh, allora io vengo e canto, quello sa fare un'altra cosa, io vengo e faccio questo. E sta, è bello, comunque è bello, se no magari queste potenzialità rimarrebbero chiuse, perciò, poi alla fine, perché tutto si è partito da questi pezzi rari proprio, belli, fatti da Ciocca, ma, 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 aspetta eh, Cianfrocca, da Maurizio Cianfrocca, questi pezzi che sono veramente belli, stupendi, noi li abbiamo presentati in anteprima, una volta, prima che incominciassero a fare il calendario, e allora Cianfrocca è rimasto contento perché tutti hanno conosciuto la sua opera, Rossi è rimasto contento perché ha avuto l'idea di trasformare quello in un calendario, 35 attività varie, sono rimasti tutti contenti perché sono potuti far vedere, far conoscere, fare concerti, teatro, storie, eccetera, e tutto, in due, tre mesi hanno riempito l'attività, tutti grazie, grazie a quello che non c'è credo, non c'è credo, ho capito, no? Perciò mi fermo qua. Alla fine che cosa è successo? Che nel vendere questi calendari c'era un risultato economico, e allora loro hanno pensato di offrire quello che sicuramente ci saranno state delle spese che qui non ci dicono, ma insomma ci dicono che hanno potuto dare, che ci sono delle cose un po' particolari che non mi ricordo come si chiamano, cioè, insomma, in poche parole, hanno avuto a disposizione 4.300 euro da dare, da consegnare ai banchi alimentari, ecco questa questione dei banchi alimentari, cioè esistono già, esistevano già due o tre organizzazioni che mantengono questo, voi l'avete visto qualche volta ai supermercati, davanti alla porta dei supermercati, dici dateci qualcosa, eccetera, qualcuno voleva darci dei soldi, ma questi dici no, noi vogliamo che nella busta di spesa voi prendiate delle cose che possono essere date ad altri che ne hanno bisogno, un pacchetto di pasta, lo zucchero, i pomodori, eccetera, e noi gliele diamo. Ora, oltre a questo, questa organizzazione che ha preparato tutto il calendario, sono riusciti a dare a quei, poi è stato dato, ha consegnato a un padre che stava lì, 4.300 euro, tutti contenti e soddisfatti, ma io ho detto, ma dove vado a mettervi in tanti per versare 120 euro? Guardate che è così, sono 35, hanno rimediato o sono riusciti ad avere 4.300 euro, ognuno quando l'ha dato, guardate un po' questi conti, così sminuite un po' tutta questa euforia dei grazie, insomma, se potevo fare di più, questo dico, o no? Vabbè, pensate per un altro anno che sia così. Intanto però vediamola, questa, noterete che la cosa più importante in questa ripresa che ha fatto questo clip, brevissimo, di Simone, vedete che la cosa più importante sono i logo dei 35 che hanno partecipato. Guardate un po'. Intanto inizierei con una domanda, e voi dovete alzare la mano. C'è qualcuno di voi che non ha acquistato il calendario? Allora, prima di uscire, la domanda è un po' provocatoria, perché so che è piaciuto, so che è andato oltre i confini di Alatri, e so che in Italia chi ha avuto la possibilità di averlo è rimasto meravigliato. Per cui dobbiamo fare un applauso iniziale a chi ha avuto l'idea, a chi l'ha realizzato, a chi ha collaborato, associazioni fotografi e tutti quanti, e anche a noi che molto probabilmente, parlando con gli altri artisti, lo abbiamo pubblicizzato. Grazie. Di entrare nelle case dei cittadini di Alatri, e possibilmente oltre. E come mi dicevo, questi due scopi sono stati alla... Naturalmente poi il movimento di denaro avverrà attraverso i canali giusti. Per la città che fino ad ora è stata raccolta. Anche se pensiamo che non sia la cifra ultima, perché c'è una manifestazione sabato e domenica proposta ad essere presenti, ad aver organizzato e quindi allietato numerose giornate dei mesi invernali. Hanno fatto dei bellissimi e artistici manifesti, locandine, ma è la prima volta, credo, per quello che ricordo io, che si sono unite, e poi c'è una bambina che canta, è la nipote di Maurizio, Elisa Pietro Bono, alla quale auguriamo, come si dice, guardi bellissimi, Lui non se non voleva, e appunto perché lui non voleva, io lo fanno. Grazie. Grazie. La situazione di pubblico, l'atmosfera emozionante che si è vissuta, il grande successo che ha avuto l'iniziativa in tutte le sue parti componenti. Permettetemi però di fare preliminarmente alcuni ringraziamenti. Ringrazio personalmente l'amico Giulio Rossi, la quale è una grande idea del calendario, Angelo Bianchi, bravissimo, insostituibile, grafico e supporto indispensabile, Mauro Barzolini, che la consulenta per ora disponibilità, Giro Maglietto, per la presentazione del calendario, tutti i fotografi, che con la loro professionalità hanno dato vita alla realizzazione di un calendario molto apprezzato. E vorrei ricordarli uno ad uno, in stretto ordine alfabetico, Angelo Bianchi, Riccardo Ceci, Francesco Cerani, Tonino Morella, Maria Novella, Le Luca, Antonello Favaccangeli, Mauro Muraglia, Laura Rossi, Enzo Sarandrea, e Pita Zana. E ringrazio anche sì, la associazione di musica Boris, per la disponibilità e la cordialità con cui ha ospirato molti eventi della nostra manifestazione. È stato qualche malinteso, qualcosa che non è andato per il verso giusto, qualche mancato ringraziamento, ma penso che comprendiamo come queste non siano state cose volute, ma sono frutto di dura dimenticanza. E devo darmi le due passare alle associazioni, alle quali rivolgo un ringraziamento particolare, e dalle quali faccio un bravo sopra quanto hanno saputo offrire alla cittadinanza in ogni evento che hanno organizzato. Senza fare classifiche o menzioni particolari a vari eventi, ma quella del calendario è stata proprio una vetrina unica per mettere in mostra, ancora una volta, le potenzialità che ha l'arte possiede, sia a livello individuale che a livello. E' certo che i sassonini della scarpa di Maurizio siano già diventati sabbia, fin, per adesso quindi già si sono... E poi, se si sogni le scarpe e si vanno a sbrullare i gazzini, la sabbia non c'è più. Ma perché io questo? Perché nel muovere così tante associazioni e così tante realtà verso una direzione non poteva mancare qualche cosa. E questo serve da crescita per tutti noi, quindi anche per te. Io volevo soltanto dire purtroppo il comunicato stampa che mi hanno portato si legge solo a metà e purtroppo vi devo soltanto dare delle notizie così. Ve l'ho dato quella dei soldi che sono 4.300 euro e il padre ha detto sì, ricordatevi comunque che il Vangelo dice non sappia la sinistra è quello che fa la destra o la destra è quello che fa la sinistra forse perché aveva visto tutto questo teatro. Però c'è un certo punto sono due notizie che sono carine e che vanno sottolineate e cioè che uno che sta a Salerno che dovrebbe essere purtroppo ripeto che ha visto il calendario ha visto anche questo movimento e ha proposto ha preparato cioè un marchio turistico di Alateri che spera l'ha fatto gratuitamente anche lui questo e spera che venga adottato dalla nostra amministrazione mentre si ricorda che purtroppo qui non c'è il nome c'è solo il cognome Pietro Bono che è la ragazza Pietro Bono che ha cantato una volta nella chiesa di Santo Stefano ma che adesso partecipa alla trasmissione ti lascio una canzone condotta da Antonella Clerici su Rai 1 e siccome è nostra è nostra è nostra a tutti gli effetti cerchiamo di fare un po' di tifo per questa ragazza ecco queste sono le cose che sono uscite fuori da questa organizzazione da questa manifestazione che ci è svolta ieri e qui voglio concludere proprio come anche perlomeno per quello che si legge tutto questo c'è questo era un discorso firmato da Maurizio Cianfrocca del Giulio Rossi tutto questo e non mi sembra poco è stata la manifestazione calendario 2014 e qui non c'è il resto perché come avevo detto una manifestazione unica bella solitale discreta ma proficua e a tutti quelli che vi hanno preso parte grazie grazie di cuore e anche noi diciamo bravi battiamo le mani anche se ogni tanto ci viene la voglia di speculare poe sono 35 mille 122 122 euro a ogni associazione vabbè hanno pagato la pubblicità ed ecco invece cosa ci propone Laura Pranzetti Bombardini nel suo dizionario contemporaneo di buone maniere alla voce sms utile sbrigativo efficace spesso implica una risposta concisa per confermare la ricezione gli sms devono essere pochi non un assedio per fortuna sta passando di